Un increscioso episodio affiora a margine della recente ondata di maltempo che nella fascia montuosa del Veneto ha provocato parecchi danni ai residenti e inestimabile la forestazione. I fiumi sono notoriamente i vettori di ogni materiale sradicato dalla forza dei fenomeni meteorologici e già era stata resa nota la situazione delle foci dell'Adige, oltre che dell'Esbrenta, con l'accatastarsi di un discreto quantitativo di legname alle barriere per contrastare il cuneo salino. Nella giornata di sabato uno dei burci che stavano lavorando sul fiume ha si prelevato i tronchi con la benna per scaricarli poi dall'altra parte della barriera direttamente sull'acqua. Così certo non si impedisce il loro arrivo alla foce e il conseguente spiaggiamento con tutto quello che comporta in termini di esporto rifiuti e di sostenibilità ambientale. Scontato chiedersi come mai il legname prelevato dal blocco non venga caricato verso la più vicina segheria o, qualora le condizioni lo rendessero inservibile, recapitate le varie discariche di smaltimento. Ma rigettare nel fiume e verso il mare ciò che al fiume non sarebbe nemmeno dovuto arrivare non pare un'operazione etica né tantomeno intelligente. Arriva sui tavoli della Procura della Repubblica e al nucleo operativo ecologico dei carabinieri la scabrosa vicenda del ripascimento delle barene nella laguna di Chioggia che secondo i quattro esperti nominati dai commissari straordinari del Consorzio Venezia Nuova durante i lavori per il Mose sarebbero state integrate non già coi previsti sedimenti del canale lombardo esterno, bensì con l'apporto di materiale chimico inquinato e anche tossico per la salute, contenente cromo, nickel e altri metalli di scarto delle lavorazioni industriali. La tesi è contenuta nel dossier che i professori Marcomini, Ghetti, Focardi e Mattassi hanno consegnato ai commissari Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola e ne dà notizie il Gazzettino di Venezia nelle vicole a oggi. A essere coinvolte sono le zone del canale Bastia e del lago delle Saline, oltre a due agglomerati soffolti. I lavori erano stati compiuti dal 2012 al 2014 ed eseguiti dalle imprese di Dragaggi, Coedmar e San Martino. Per rifare la barena sarebbero corsi 300.000 m3 di sedimenti fangosi, invece ne sono stati conferiti circa il 25%. Nelle attuali consistenze il cromo supera di tre volte il limite consentito dalle legge. E anche il nickel oltrepassa comunque la soglia costituita della presenza del metallo nel fondo naturale della laguna. Niente soldi, ma danni considerevoli, per centinaia di euro, ha fruttato il blitz di un ladro ancora anonimo alla pescheria Minuto di Chioggia, nella notte fra sabato e domenica. Il malvivente, alla spasmodica ricerca di denaro, ha divelto cassetti e sbaragliato bilance, strumenti elettronici, registratori di cassa a vuoti, capovolgendo i banchi per non rubare poi niente. La pescheria era già stata visitata un anno fa dal 56enne Bruno Duse, identificato all'epoca attraverso riscontri e testimonianze. L'uomo è da poco uscito dal carcere ed è stato visto aggirarsi i giorni scorsi nei paraggi del mercato ittico all'ingrosso. Ancora una volta si impone palese l'esigenza di dotare la pescheria di un sistema di videosorveglianza. L'Associazione Vespisti e Non Professionisti di Chioggia ha protocollato al Comune la richiesta di una deroga all'ordinanza numero 279 del 1 ottobre, che regola la circolazione dei veicoli in grado di produrre emissioni di PM10 e polveri sottili. I Vespisti contestano che il provvedimento inibisce loro l'uso dei loro mezzi, in quanto classificati due tempi Euro Zero. Secondo l'ordinanza, questi scooter possono uscire solo per partecipare a eventi ricreativi organizzati, previ ad eroga. I Vespisti non professionisti, affiliati al registro storico italiano, apprezzano l'attenzione all'ambiente, ma sostengono che l'uso dei loro ciclomotori sia alquanto ininfluente, dato il numero residuo di Vespa è rimasto attivo, poche decine di mezzi utilizzati sporadicamente per qualche ora alla settimana. Per questo l'Associazione chiede di poterli adoperare anche al di fuori di manifestazioni organizzate, almeno nei giorni contrassegnati dal bollino verde per la qualità dell'aria, come già accade ad esempio in Lombardia. In assenza di questa deroga, il rischio è che una parte del patrimonio meccanico, storico e iconografico del Paese vada rottamato, a scapito anche della richiesta della stessa amministrazione comunale, di visporne durante le proprie iniziative. L'attribuzione di una regola, deroga, è sostenuta anche dal consigliere reghista Marco Dolfin. Amici carissimi di Natocazzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento Meteo. Un dato su tutti che va a spiegare naturalmente ciò che è successo nella montagna veneta. Il 29 ottobre, circa le 20 di sera, abbiamo toccato al passo Rolle circa 217 km di vento da sud, tanto basta spiegare quell'abbattimento di circa 14-15 anni di alberi stimati nella montagna veneta Trentina e Friulana. Questo dà la misura di quanto sia stato feroce il maltempo che ha colpito le nostre zone in quella giornata. Dopodiché un altro dato importante, anche ieri abbiamo avuto un paio di temporali prima di mezzogiorno che si sono appunto susseguiti verso Venezia Mestre, segno tangibile comunque di correntici locali ancora molto calde che con il contrasto della Bori rientro dopo il po' creano appunto questi fenomeni vorticosi naturalmente non normali per il periodo che stiamo vivendo. Ma per ciò che concerne poi le previsioni effettive sul nostro territorio vi posso già dire che sarà una settimana improntata alla variabilità e in qualche caso anche instabilità con ancora qualche goccia di pioggia qua e là ma naturalmente in tutto in via di guarigione almeno fino a fine settimana. Ma non sarà una guarigione perfetta dettata appunto da cieli terzi e da vere giornate perché anche il cuneo anticiclonico che da giovedì andrà sovrapponendosi nel sud Italia non avrà la forza appunto di migliorare il tempo anche sulle nostre zone quindi di fatto avremo sì un miglioramento ma non sarà così effettivo. Lascerà sempre spazio a nuvolamenti abbastanza frequenti. Vi posso dire che dal punto di vista delle temperature scenderemo un pochino con le minime tra mercoledì e giovedì e giovedì su venerdì ma niente di eclatante. Le massime rimarranno sempre circa 5-6 gradi sopra le medie del periodo. Tutto questo calore che si stiva formando già da aprile quindi con notevoli medie di scarto ha portato le temperature massime ad essere circa un grado e mezzo, due gradi sopra le medie appunto tutto il del Mediterraneo. Questo crea un mare ancora piuttosto caldo quindi un mare caldo significa notevole energia per tutte le perturbazioni che poi si gettano dai meridiani verso il Mediterraneo creando appunto fenomeni vorticosi di grande consistenza. Naturalmente il forte maltempo che abbiamo avuto in questi ultimi giorni ha rimescolato le acque superficiali del Mediterraneo ma nella parte sua orientale quindi verso la Turchia e la Grecia notiamo ancora mari tranquillamente superiori ai 25 gradi. Tanto basta per capire quanto appunto le situazioni sono ancora abbastanza difettose e quindi pericolose. Quindi una giornata che si apre abbastanza bene e sarà abbastanza nuvolosa nella mattinata forse con uvi bassi naturalmente e naturalmente anche adesso sarà qualche nebbia effettiva ma niente più maltempo di quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Quindi attendiamo un miglioramento e stiamo a vedere come si comporterà. Ciao a tutti!